Allora mister Michele Battaglia, ancora un'altra prova di carattere dei tuoi ragazzi, ancora un'altra stupenda prestazione di tutti i giocatori a disposizione, dal super portiere Cicciolo Reto fino al bomber Andrea Mangiagli. Sì, oggi devo vedere la verità, sono molto contento del fatto che oltre ad aver vinto abbiamo giocato bene, mi dispiaceva infatti finire la partita o ai supplementari o ai rigori dopo una prestazione del genere, specialmente i primi 20 minuti del primo tempo siamo stati bravi a friggere la palla, a creare l'azione da gol, poi la partita si è messa praticamente in equilibrio, poi nel secondo tempo abbiamo avuto praticamente uno svarione, abbiamo beccato un rigore, devo dire la verità, secondo me c'era anche un rigore a fuori nostro nel primo tempo, l'arbitro forse non l'ha vista e quindi non l'ha fischiata. Poi con tutte le forze abbiamo cercato fino all'ultimo di chiudere la partita prima dei supplementari, anche visto che c'erano due o tre che per infortuna sono usciti, quindi i cambi sono stati fatti non per demerito, perché sinceramente oggi veniva difficile fare qualsiasi cambio perché del primo all'ultimo hanno giocato benissimo e quelli che sono entrati hanno fatto tanto quanto quelli che erano in campo all'inizio. Un super gol, un'altra prova di carattere, di orgoglio, cosa si prova a gestire un gruppo a cui il sogno di essere tra le più forti squadre di Sicilia continua entrando con diritto e con merito tra le prime otto squadre di Sicilia? No, la soddisfazione è tanta, essere già tra le prime otto squadre della Sicilia è una gran soddisfazione, adesso ci saranno i sorteggi e quindi vediamo anche se dove avremo la possibilità di giocare. Se per caso becchiamo la squadra di Palermo molto ovviamente si giocherà nella parte centrale della Sicilia. Speriamo di avere un bel sorteggio, anche se devo dire che ormai le otto squadre che sono arrivate alla fine sono una meglio dell'altro, anche oggi la Sempio X era bene messa in campo, ripartenze, la centrocampo messi benissimo con un numero 20 in gamba, in difesa quadrati, cioè devo fare solo i complimenti sia all'avversario che ai miei ragazzi.